Snake, fai attenzione. Ci sono delle mine Claymore da quelle parti. Usa il cercamine. E tu chi sei? Chiamami Gola Profonda. Gola Profonda? L'informatore dello scandalo Watergate? Questo non ha nessuna importanza. Non stai utilizzando una trasmissione intermittente. Sei nelle vicinanze. Ascolta, dritto davanti a te c'è un carro armato in agguato. Mi vuoi dire chi sei? Diciamo, un tuo ammiratore. Questo è il territorio di Raven. I serpenti non vivono in Alaska. Non ti lascerò passare. Comitato di accoglienza! Perfetto. La terra è il tuo posto. Devi strisciare come il serpente che sei. Avanti! Combatti! Perfetto. La terra è il tuo posto. Perfetto. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cerca di non sottovalutarlo. Che impressione ti ha fatto? È proprio come dicevi tu. In battaglia è posseduto da un demone. Quasi come te. Non mi aspettavo nulla di meno. Visto? Te l'avevo detto, ma io l'ucciderò. Allora, generale Ivan, ho sentito che si è preso la tua mano insieme al tuo onore. Gli era freddo la lingua, sciamano. Nel linguaggio di Siu, Siu significa serpente, un animale da temere. Ora Snake è mio. Quando lo incontrerò di nuovo, gli riserverò un trattamento speciale. Non è ancora. Aspetta di ucciderlo. Io e lui ci ritroveremo in battaglia. Le tue solite premonizioni. Sì, il corvo sulla mia testa ha sede del suo sangue.